Gentili telespettatori, buona giornata. Da questo sondaggio vediamo quanti elettori del PD stanno con Meloni e il risultato è sorprendente. Il 51% degli italiani intanto stima che sull'immigrazione il governo Meloni stia lavorando bene. Il sondaggio fatto su base nazionale superano e sorprendono le risposte positive dell'elettorato di centrodestra che superano abbondantemente i 4 quinti, ma è interessante vedere come due elettori su 5 dei 5 stelle, cioè il 39% e il 38% del PD stiano sulla linea del governo. E non sono da trascurare neanche il 31% del terzo polo e il 27% dell'alleanza sinistra italiana-verdi, più di un quarto. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata.